Sessore Di Matteo, quella di domani sarà una giornata importante, la giornata della consapevolezza sull'autismo e oggi presentate un progetto di legge regionale proprio sull'autismo. Ho avviato un percorso di concertazione che oggi si va a concretizzare in una bozza di proposta che serve a modificare alcuni aspetti e a dare un ruolo strategico importante a quella che è l'attività dell'autismo che non può essere considerato un argomento all'interno delle malattie psichiatriche per cui noi andremo avanti su tre o quattro proposte fondamentali. La prima, la diagnosi precoce che deve essere sviluppata nei territori di appartenenza. L'altro aspetto è che c'è un percorso per cui l'autistico dopo i 18 anni esce dallo schema di attenzione delle istituzioni rimangono in un mondo coperto, buio. Bisogna lavorare per cui queste persone quando perderanno i familiari, i genitori avranno anche un modo per vivere in maniera adeguata a quella che è una civiltà moderna come quello che vogliamo sviluppare. Antonella De Angelis, parliamo di questo concerto che ci sarà il 9 aprile, un concerto che servirà per raccogliere fondi per i genitori di bambini autistici. Il concerto è impernato su un grande artista internazionale, Danilo Rea, che ha abbracciato con grande sensibilità la cosa. Eseguiremo musiche sue, arrangiate per orchestra, fiati e trio jazz. In apertura al concerto ci sarà un gruppo di ragazzi dai 5 ai 13 anni, violoncellieri, che sono in effetti sotto i riflettori a livello nazionale di grandi musicisti per la didattica innovativa del preparatore, che è Gianluigi Fiordaliso.